Cari amici ben ritrovati sul canale, oggi è arrivato un pacchettino e voi direte fin qui niente di strano però quando in un pacchettino c'è un top di gamma c'è tanta più emozione e curiosità del solito allora volevo condividerla con voi pronti per scoprire il contenuto di questo super telefono e allora ragazzi eccolo qua il pacchettino che sono curioso di andare ad aprire una bella incisione qua, una bella incisione qua e una bella incisione qua e intanto io vi dico che i più appassionati possono iscriversi al mio canale possono magari anche per chi mi segue da un po' di tempo condividere la mia pagina, il mio canale YouTube con gli amici appassionati a sua volta per vedere poi nella scatola un bel telefonone un telefonone ragazzi che si chiama Huawei P40 Pro finalmente nelle mie mani andiamo a togliere la scatolina e guardiamoci un po' la scatola principale bianca Huawei P40 Pro è un telefono 5G che non ha i servizi di Google quindi ragazzi App Gallery a palla e poi magari nella recensione vi spiegherò anche cosa significa come lavora l'App Gallery, che applicazioni ci sono, se girano tutte bene, come si trovano la funzione, il motore di ricerca come funziona il tutto, andiamo a vedere il contenuto della confezione spillettina, coverina di protezione, eccola qua andiamo a vedere di che colore è, è un colore trasparente con un mega oblò perché ci sono tante belle fotocamere ma abbiamo anche un cavetto USB tipo C gli auricolari auricolari che non hanno il classico jack audio ma l'ingresso di tipo C quindi vanno direttamente alla porta di ricarica per finire un mega caricatorone che spinge fino a 40 watt ragazzi è bello, pesante ma questo è il telefono, andiamolo a vedere anche sul posteriore guardate la bellezza, la bellezza dei dettagli che Huawei mette su questo telefono veramente impressionante, veramente bello questo vetro che non è un vetro lucido ma è un vetro satinato con 4 fotocamere incastonate in questo blocco qua abbiamo 50 megapixel, la principale una 40 megapixel grandangolare una 12 con zoom ottico 5x e una ultima fotocamerina che va a generare la profondità di campo guardiamo in basso ragazzi perché troviamo carrellino della doppia nano sim 5G c'è l'espansione di memoria ok ma solo con nano SD le produce quindi Huawei se volete le potrete acquistare sono piuttosto carucce accensione blocco sblocco che ha una trama sul rosso lateralmente il bilanciere per il volume quindi abbiamo poi tutto pulito alto parlante mono porta di tipo C 3.1 quindi porta fuori l'audio e il video dall'altra parte niente in alto abbiamo anche la porta ad infrarossi oltre al secondo microfono ed eccolo ragazzi che si è attivato confermo prima impressioni stupendo telefono pesa 209 grammi ha un display da 6.58 pollici è un OLED in Quad HD Plus a 90 Hz poi ovviamente si può settare il refresh rate può andare anche a 60 kg 990 8 GB di RAM 256 GB di memoria si impugna molto bene per essere un padellone vi faccio vedere anche in alto a sinistra le due fotocamere più un sensore a infrarossi per andare a capire la profondità della persona e del campo dietro a quella persona che si fa la fotografia insomma prime impressioni veramente buone vi faccio vedere il menu a tendina ci gioco un po' abbiamo la modalità scura quindi tutto in nero con le scritte ovviamente in bianco fluidissimo già il P40 Lite a livello di fluidità mi aveva convinto attiviamo anche le super fotocamere andiamo a vedere ottimo anche il refresh il movimento della fotocamera una fotocamera che scatta a 50 megapixel se settata in automatico va a 12 e mezzo con questa barrettina sarà possibile aumentare o meno lo zoom fino vedete anche voi il 50 per vediamo se riusciamo a inquadrare la scritta no non ce la faremo mai eccola qui qualcosa si è visto eccolo qui e non è nient'altro che quel pallino che vedete con scritto Leica la collaborazione quindi Leica con Huawei per queste fotocamere quindi per foto spaziali la batteria 4200 mAh ricarica fast 40W grazie al mega caricatore in dotazione anche wireless 27W NFC 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 tipo C che esce audio video insomma uno smartphone che secondo me spaccherà di brutto il tempo di provarlo poi lo scopriremo nella recensione completa non vi dico il prezzo ma tanto lo sapete è uno smartphone che sicuramente non costa poco per il momento io vi saluto grazie per l'attenzione ci sentiamo presto per la recensione completa di questo Huawei P40 Pro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti